Per parlare della legge della gravitazione universale di Newton, consideriamo una situazione di tipo astronomico. Immaginiamo che ci sia un pianeta e che ci sia un'astronave ferma sopra il pianeta ad una certa distanza. Cosa dice la legge? La legge dice che tra questi due oggetti e tra tutti gli oggetti dell'universo c'è una forza attrattiva che fa sì che l'astronave venga attirata verso il pianeta e che a sua volta il pianeta venga attirato verso l'astronave. Questa forza agisce lungo la linea che collega i due e il suo valore è dato da una formula, la formula della legge della gravitazione universale, che è questa, che dice che la forza è proporzionale tramite una opportuna costante g alla massa del pianeta per la massa dell'astronave diviso il quadrato della distanza tra le due. Questa formula funziona perfettamente se i due oggetti sono fermi l'uno rispetto all'altro. Adesso però supponiamo che il comandante dell'astronave si metta in moto e faccia partire l'astronave facendola girare intorno al pianeta. A questo punto cosa succede? A questo punto questa formula ci dice che in ogni istante continuerà ad esserci un'azione reciproca sotto forma di due forze tra i due oggetti e che istante per istante queste forze saranno sempre dirette come la congiungente dei due. Tutto questo non va bene. Perché non va bene? Perché Einstein ha stabilito che ogni volta che due oggetti interagiscono tra di loro si scambiano delle informazioni. Le informazioni però non possono viaggiare a velocità infinite e quindi i due non possono sapere nello stesso istante cosa sta succedendo all'altro. Deve passare un certo tempo e la velocità massima a cui si possono propagare queste informazioni è quella della luce che nel caso per esempio di un'astronave a 30.000 km vuol dire un decimo di secondo. È un tempo molto piccolo. Uno potrebbe dire che importanza può avere tenerne conto? Beh ha un'importanza concettuale perché questo fatto ci dice che questa formula è inadeguata. Bisogna trovare qualcosa di meglio. Chi ha fatto questa difficile operazione di trovare qualcosa di meglio di questo? È stato lo stesso Einstein che ha sviluppato una teoria che generalizza la teoria della relatività ristretta, che dice che le interazioni non possono viaggiare più veloce della luce. Questa teoria si chiama teoria della relatività generale ed è una teoria che è molto difficile, molto astratta, ma che però ha portato a prevedere l'esistenza di cose che poi si sono viste per davvero. Una sono i buchi neri, l'altra sono le onde gravitazionali per le quali l'anno scorso è stato assegnato il premio Nobel per la fisica.